Caravaggio con la sua vocazione di San Matteo e Masaccio con la crocifissione di San Pietro sono due delle tele rinascimentali maggiormente preferite da Papa Francesco che mercoledì scorso 16 ottobre in occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro affollatissima come sempre ha ricevuto in dono l'opera pittorica di straordinaria intensità dal titolo Deposizione realizzata dal pittore viareggino Mario Marcucci scomparso nel 1992. un'opera donata dalla vedova Carla Marcucci e consegnata al Papa da Don Danilo D'Angelo storico parroco di Pietrasanta, cappellano di sua santità accompagnato per l'occasione dal segretario dell'associazione Amici di Mario Marcucci un dipinto a olio di 2,30 m per 3 dall'alto valore storico-culturale che i critici hanno paragonato proprio ad un masaccio dipinto apprezzatissimo da esponenti della cultura come Luzzi, Montale, Moravia, Primo Levi, Soldati e altri La vedova, signora Carla, desiderava regalare al Santo Padre una delle sue opere migliori deposizione e mi sono fatto coinvolgere e volentieri sono entrato in questa iniziativa il Santo Padre ha apprezzato io ho spiegato l'opera e lui ha dialogato con me ha detto è molto importante questo gli ho fatto notare la drammaticità dell'opera perché non è un volto, non sono volti la Madonna, Cristo, identificativi, fotografici lì c'è la drammaticità del dolore universale e Grazie.